Sto scherzando, sto scherzando, è una burla, è una burla, è una burla, it's a burla, burling ovation Allora, Real Madrid, 1, 2, 3, 4, 5 Allora, a te ti metto qui e arriviamo a 60 Poi, penso, a te ti metto qui, arriviamo a 68 A te ti metto qui e facciamo 74 A te ti metto qui e facciamo 79 A te ti metto qui e facciamo 83 A te ti metto qui e facciamo 84 C'è una canzone epica, io si faccio le live, capito? Quindi non è che tengo la musica epica Quindi devo farla io, la devo fare io E no però, mi puoi facciare, ragazza un medo, facciare la cosa epica però Aspetta, Leo è tornato Ciao, dove volevo chiedere, quando fece il FIFA 18 Credi che ti metto a me, faccia a passarmi sul 19 Mese prossimo, devi seguire Tonihstupho se ti iscrivi a toni dub e penso che sei iscritto se non mi donavi mese prossimo vi do il sistema per passarvi crediti fifa 18 su fifa 19 acqua in bocca perché un sistema che non si dovrebbe usare ma toni dubbo scusate però io lo sapete c'ho la mia canzone personale quindi quando sono questi momenti devo per forza di cose mettere la mia canzone boom ecco cazzo te cazzo di personale almeno facetemelo sono allora ma non voglio quante donazioni mi sta dicendo stasera c'è con stasera mi fate comprare una macchina stasera mi sa o mare e mare toni dicono che per pele essendo l'ultima e con insieme a zanetti servirà solo un icon brasiliana io ho sentito alcune voci che lo dicevano ti rispondo dopo sto sono attivo perché la chat dice che ho dato ronaldo toti ma dove cazzo me la fotte l'esperienza chrome ho dato veramente ronaldo toti oh santo dio e me lo volete di io ho dato ronaldo toti oh santo dio 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 non c'è credo non è possibile non l'ho fatto veramente non c'è credo ma l'ho fatto di morire ho dato ronaldo toti Ho fatto 187 Chi era quello che dovevo mettere? Non so se ridere e piangere Vi giuro perché piangere per un giocatore Virtuale di FIFA mi sembra esagerato Mi sembra esagerato Piangere per un giocatore virtuale di FIFA Però dare Cristiano Ronaldo Cioè Non mi viene mai che la veste mia che devo dire Ma che coglio Non sapeva che pensava Non ci ho riflettuto Non ci ho riflettuto Ma che ci ho fatto apposto A me nemmeno preparato Cosa a dire dopo? Cioè vi giuro su Dio Non lo sapevo Cioè non ci ho fatto caso Perché sono arrivati Tutte quelle donazioni una pressa l'altra Non ci ho capito niente Non ho capito Non mi rinforzato Non mi rinforzato Quattro milioni e mezzo Quattro milioni e mezzo Quattro milioni e mezzo Io non ci credo Io non ci credo La cosa è bella che Mo' nessuno mi crede Penso che c'è fatto apposto Il K Il K Spito l'ho fatto apposto Mannecce Gesù è la mannecce Nella cervella di Tony Quante le depositive 7K Spettatori Non ci scrivere Ma anche Che te in capri Sono i miei testi Che vengono e scrivono Godo Godo Però non fai niente Non è tanto C'è il fenomeno Enri Tanto la squadra L'avevo pure cambiata L'avevo fatta la full icon Sì vabbè Provo caspito L'avevo pure cambiata Quattro milioni e mezzo Cioè Tre milioni e mezzo Vado Cioè mi accontento No Gioco con Con questa qua Non è che è un problema Secondo me Non hai fatto apposta Perché Ronaldo Bravo Matteo Bello non si Ci puoi credere Che non è fatto apposta Maron Maron Il buon vero team Per te Ha descartato Ronaldo Toti Che fessi Non è possibile Non è possibile Cioè ma si può mai farmi Devo accontentare di Ronaldinho No cioè Nel senso Non è un problema Perché i giocatori ce li ho Però capi Cioè Ronaldo Toti Cristiano Ronaldo Toti Il giocatore più forte del gioco Eh Grazie